Buongiorno ragazzi, eccoci a questo sesto giorno della novena di Natale, sesto perché quello di ieri non l'abbiamo visto perché è la domenica, quindi andiamo direttamente al Vangelo di oggi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Luca. Quando Elisabetta fu al sesto mese, Dio mandò l'angelo Gabriele a Nazareth, un villaggio della Galilea. L'angelo andò da una fanciulla che era fidanzata con un certo Giuseppe, discendente del re Davide. La fanciulla si chiamava Maria, l'angelo entrò in casa e le disse, ti saluto Maria, il Signore è con te e egli ti ha colmata di grazia. A queste parole Maria rimase sconvolta e si domandava che significato poteva avere quel saluto, ma l'angelo le disse, non temere Maria, tu hai trovato grazie presso Dio. Avrai un figlio, lo darai alla luce e gli metterai in nome Gesù. Egli sarà grande e Dio, l'Onnipotente, lo chiamerà suo figlio. Il Signore lo farà re, lo porrà sul trono di Davide, suo padre, ed egli regnerà per sempre sul popolo di Israele. Il suo regno non finirà mai. Allora Maria disse all'angelo, com'è possibile questo, dal momento che io sono vergine? L'angelo rispose, lo Spirito Santo verrà su di te, l'Onnipotente Dio come una numbe ti avvolgerà, per questo il bambino che avrai sarà santo, figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua età, aspetta un figlio. Tutti pensavano che non potesse avere bambini, eppure è già al sesto mese. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, eccomi sono la serva del Signore, Dio faccia con me come tu hai detto. Poi l'angelo la lasciò. Ricordo che stiamo guardando un po' anche a quale statuina Don Edoardo non ha nel suo presepe, ma senz'altro una delle statuine più importanti ce l'ha, che è proprio la statuina di Maria. Questa ragazza, giovanissima, qualcuno dice quindicenne, sedicenne, comunque prima dei vent'anni, perché era promessa sposa di un uomo e all'epoca l'età era quella, quell'uomo si chiamava Giuseppe, l'abbiamo già visto, un uomo giusto, e una ragazza santa. Una ragazza santa perché si mette nelle mani di Dio, a cui nulla è impossibile. Non sta a noi, adesso potremmo anche ragionarci, certo non in questi dieci minuti di buongiorno, sul perché Dio sceglie questa strategia, questo piano di battaglia per salvare il mondo, attraverso la volontà di una donna, una donna, non va a presentarsi a un uomo, come capitava nell'Antico Testamento. Qui va da una donna e chiede a questa donna, l'ultima che nella società ebraica aveva, l'ultima donna, neanche sposata, in fondo alla società chiede a questa donna il permesso attraverso di lei di salvare il mondo. Ecco perché la Madonna Maria è ricordata come la donna del sì, un sì di una volontà che si getta completamente, che si apre completamente a Dio e rende possibile questa cosa. Nulla è impossibile, un Dio che sceglie questa strada di passare attraverso le mani, il grembo, la volontà di una donna che è Maria. E Maria ci sta, sta a questa sfida e da allora non possiamo che prenderla tra le nostre cose. Nel nostro presepe, ma citavo proprio un brano di Giovanni, il discepolo da quel giorno prese Maria in casa sua. Non possiamo non avere Maria nella nostra casa, perché da quel sì in avanti lei diventa uno strumento importantissimo nelle mani di Dio, si lascia fare da lui. Ed è per questo che la sua volontà, che si lascia fare dalla volontà di Dio diventa fortissima. Diventa poi uno strumento per tanti miracoli e anche nella storia ne abbiamo grandi prove. Lasciamoci così, abbandoniamoci un po' anche nella preghiera. Lo facciamo tanto spesso, Don Bosco lo faceva con continuità, abbandonarsi completamente nella sua vita nelle mani di Maria, che è questa guida che lui ha sempre avuto. Tante sono le esperienze dell'uomo nella storia che chiede a Maria un aiuto e lo ottiene. Facciamo così anche noi. In questo Natale ci mettiamo nelle sue mani, in particolare proprio che gli chiediamo il dono della guarigione, il dono della guarigione dell'anima, prima ancora che del corpo, il dono del farci cullare un po' nelle sue mani come lei ha cullato il bambino Gesù. E buona giornata! Grazie! 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 Grazie!